Dodicesima giornata di campionato nel girone C di Serie C. Nell'anticipo di ieri il Giuliano espugna il curcio di Picerno con il punteggio di 3-1. Risultato sorprendente delle Tigri di Bertotto che passano subito in vantaggio al secondo minuto con Giorgione che mette in discesa la gara del Giuliano non ancora Domo con il raddoppio di Njambe al ventitresimo che però non abbatte i padroni di casa. Infatti gli uomini di Tomei riescono ad accorciare le distanze al minuto 38 con Bernardotto. Ma non basta perché il Picerno non riesce ad agguantare il pareggio e finisce per subire la terza rete con Balde al 79. Vince il Giuliano che continua a navigare in acqua importanti di classifica al quarto posto dopo due capo di fila. Stasera alle 20.45 la Cavese sarà impegnata sull'ostico campo del Messina e andrà a caccia della vittoria mentre il match più atteso è sicuramente Crotone e Benevento. Coi Sanniti che devono difendersi dagli attacchi dell'Avellino e sfideranno i calabresi in un momento di ripresa. La Turris ospita il Catania a Liguori. Altro match complicato per i Corallini che però nelle ultime tre gare hanno portato a casa due vittorie ed un pareggio. Il Sorrento a Biella contro la Juventus Next Gen per fare più punti in zona playoff. La Casertana ospiterà l'Altamuro al Pinto. Occhio ai Pugliesi in un momento d'oro.